Antonio Moretti, imprenditore a retino del vino e della moda, torna libero. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha infatti revocato gli arresti domiciliari. La misura alternativa da rispettare per lui adesso è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Moretti si trovava ai domiciliari da ormai quattro mesi nella sua tenuta a sette ponti di Castiglion-Fibocchi. Per ben due volte il GIP del Tribunale di Arezzo, Pier Giorgio Ponticelli, aveva respinto la richiesta di remissione in libertà anche dopo l'interrogatorio fiume durato ben otto ore. Era lo scorso 23 novembre quando per lui, per il figlio Andrea ed altri due collaboratori scattarono le manette nell'ambito dell'inchiesta della procura di Arezzo sul presunto autoriciclaggio da oltre 25 milioni di euro. Il figlio e uno dei due collaboratori, il ragioniere Marcello Innocenti, erano già tornati in libertà. Resta ancora invece ai domiciliari l'altro collaboratore Paolo Farsetti. Tutti e quattro furono colpiti dalla misura degli arresti domiciliari a seguito del blitz della Guardia di Finanza. L'inchiesta aveva anche portato all'interdizione di altri membri della famiglia Moretti ma anche dipendenti del gruppo.